Gran folla nei 500 luoghi aperti per la Maratona FAI, la grande bellezza del nostro paese, nascosta persino nei sotterranei dell'ospedale maggiore di Milano. Vediamo con Caterina Proietti. Ci sono dipinti di Casorati, Sironi, Aiez e questo Carrà, datato 1917, che ritrae un ufficiale medico della Prima Guerra Mondiale. Oltre 900 quadri custoditi fino a qualche anno fa nei sotterranei dell'ospedale maggiore, aperti al pubblico in occasione della FAI Marathon, protagonisti sono i benefattori del Policlinico di Milano dal 1500 al 2012. C'era un prezziario, quindi all'epoca di Segantini, ad esempio, uno dei ritrattisti, chi donava 10.000 lire aveva un ritratto a mezzo busto, chi ne donava più di 40.000 lire aveva un ritratto a figura intera. Ecco quindi il commendator Davide Campari, capostipite della nota Casa di Liquori, Carlo Rotta, capitano di Industria milanese, ritratto da un Segantini inedito. Compaiono anche prelati, commercianti, letterati e naturalmente i nobili. Salendo invece si scopre l'archivio storico dell'ospedale, due sale, una per l'estate e una di legno per l'inverno. Da quanti anni vengono conservati i documenti qui dentro? Questo archivio è dal 1066 che è in funzione e funziona tuttora. Intorno solo faldoni d'epoca con pergamene antiche appartenenti agli ospedali medievali del Ducato, le note spese e i documenti di un patrimonio immobiliare dal valore inestimabile. Adesso parliamo di...